Allora, sono in SOLIDWORKS e cosa ho fatto? Sono riuscito anche a fare che anche la linguetta, anche questa qua resistente, partecipi alla trasmissione della coppia. E dunque, questo punto aumenta rispetto alla non trasmissione di un megapascal. Dunque, da 206 arriva a 207. Dunque, teoricamente, questo dal punto di vista didattico, a mio avviso, è anche utile perché così faccio vedere come partecipano entrambe. Naturalmente, il problema è che c'è ancora questo grosso problema, che se partecipa solo la linguetta i carichi vanno dieci volte. Dunque, alla fine, la mia domanda è provocatoria. Perché poi quando uno va a vedere le tolleranze che si mettono, bene o male, io do ben determinati parametri su come andare a mettere che ho tratto da un libro tedesco. e il gioco, praticamente, non c'è mai. E dunque, la mia domanda provocatoria è ma non è che è solido il cabbia ragione? Solido Simulation. Niente, ci vediamo alla prossima. Arrivederci. Grazie. Grazie. Grazie.